Allora, alle tre la mia signora, ecco come dicevamo noi. E gli urso? Eh, che sarei alle tre? All'altro, non alle tre. Gli urso, alle due le cannerò, alle tre la mia signora, no? La mia signora. E se gli urso che fa? Gli urso è la domenica sera. Eh, e gli urso che fa? Se lo mettono, se lo mettono in bosco a toglierci la rena. Gli urso? Piove, sì, allora è il tempo buono, la notte sono stato l'orena, l'urso. Viene il tempo cattivo. Sto anche per la propria mazzanese. Invece se il tempo è della notte, io sono state di bullena, piove un po' io, e allora dopo è il tempo buono. Quindi come dicevamo noi.